Musica Cari telespettatori, ben ritornati con noi, ben arrivati anche i nostri ospiti che ci consentono di affrontare un tema molto interessante del territorio che si può estendere perché quando parliamo di ambiente, di tutela dell'ambiente, di igiene ambientale di pulizie, di interventi molto importanti e significativi sono utili per non solo per rendere pulita un'area, un territorio, un comune ma anche per la nostra salute con tecnologie all'avanguardia, molto avanzate, con grande competenza e quindi qui con noi in studio abbiamo il piacere di avere Simone Norbiato dei servizi ambientali Acegas, APS, AMGA, Padova, grazie di essere qui con noi e poi in rappresentanza di un comune che da poco ha creato questa partnership con Acegas, APS e AMGA il sindaco di Saccolongo, Elisa Maggiolo grazie anche a lei Allora, anche in questi giorni, notizia di tutti i giorni problema di polveri sottili, problema di inquinamento problema di un ambiente che non è salutare parte significativa è la pulizia che si effettua sul territorio, sul comune questo è un concetto che forse deve essere interiorizzato bene da parte di tutti i cittadini anche un'igiene molto più profonda anche se questa, come si chiacchierava anche prima fuori onda, può creare dei disagi voi vi state applicando nei vostri comuni di appartenenza in questi termini e poi vedremo anche come è iniziata la collaborazione con Saccolongo Allora, lei ha toccato un tema che è sicuramente d'attualità lo leggiamo dalle croniche dei giornali di tutti i giorni proprio oggi, Fatalità Padova, stiamo svolgendo un servizio che noi chiamiamo di pulizie straordinarie ovvero sia prendiamo una parte, una porzione della città, qualche via che solitamente riusciamo con difficoltà a pulire e igienizzare perché spesso e sovente vi sono macchine parcheggiate facciamo un'attività di informazione molto capillare con dei volantini, posiamo dei divetti di soste in modo tale che le persone che abitano in questa porzione della strada siano informate e quindi ci consentano di intervenire avendo lo spazio libero e cosa consiste il servizio? un lavaggio di strada completo, una pulizia superficiale delle calditoie una superficie interna delle calditoie questo per migliorare il deflusso delle acque ovviamente l'intervento anche delle spazzatrici, delle macchine quindi anche un cambio dei contenitori, lo svuotamento e una igienizzazione degli stessi perché è importante fare questi tipi di interventi? perché innanzitutto diamo un segnale anche ai cittadini che bisogna elevare la qualità di questi tipi di interventi proprio perché abbiamo delle problematiche che riguardano tutti che è quello dell'inquinamento atmosferico, quindi dello smog quindi pulendo, spazzando, non tanto soltanto spazzando ma pulendo in modo profondo le strade, i marciapiedi quindi l'importanza di avere un disagio per un giorno della macchina ne trae vantaggio anche la nostra respirazione la situazione anche delle polveri in generale quindi questo è importante comprenderlo anche per i bambini che sono tanto più vicini alla terra il nostro obiettivo è questo perché introduciamo anche oltre a degli elementi oggettivi di miglioramento della qualità introduciamo anche degli elementi culturali in modo tale da abituare anche le persone a capire che effettivamente non basta più, come si diceva poc'anzi il semplice spazzamento magari come era una volta con lo spazzamento manuale con la classica scopa inerica ma è necessario fare gli interventi mirati perché non si tratta più solo di togliere la lattina o il pezzettino di carta il cosiddetto fenomeno del littering ma c'è bisogno di intervenire in un contesto più ampio che è quello proprio della salute pubblica per questo utilizziamo dei macchinari che innanzitutto consentono di umidificare il suolo pubblico e quindi evitano lo sollevamento delle polveri per quanto possibile perché sappiamo che in certe realtà dove ci sono marciapiedi o auto ancora parcheggiate in qualche modo i rifiuti dobbiamo cercare di togliere attraverso altri macchinari che sono i cosiddetti soffiatori i soffiatori elettrici che però offrono vantaggi dal punto di vista di inquinamento acustico e anche impediscono attraverso il dosaggio della potenza il sollevamento delle polveri soprattutto anche perché poi lo facciamo magari in orari che sono quelli della mattina presto quindi creando pochissimo disagio poi facciamo il lavaggio completo come si diceva e quindi vogliamo dare un'immagine di una pulizia veramente approfondita ecco queste pulizie approfondite che poi sono incominciate e inaugurate diciamo credo una o due settimane fa un paio di settimane fa con un'area del territorio adesso vi siete spostati a Brusegana poi comunque prenderete vari ambiti vengono ripetute ogni quanto tempo e quindi perché in città come Milano sono frequenti, sono costanti in altre città non dico d'Italia guardiamo in Europa addirittura quotidiane proprio perché purtroppo viviamo in ambienti estremamente sporchetti si è inquinati e quant'altro il tema noi l'abbiamo fatto in via sperimentale l'anno scorso quindi l'abbiamo testato e abbiamo migliorato dove era da migliorare quest'anno con il 2019 facciamo 26 interventi quindi ogni due settimane interveniamo in qualche produzione della città c'è già un piano che prevede alcune vie e andrà a toccare un po' tutti i quartieri abbiamo già degli scontri positivi lo notiamo dalle segnalazioni che arrivano ai cittadini che dicono anche a me anche la mia vicina quando passate nella mia strada nel mio quartiere certo perché uno capisce l'importanza significa che apprezzano il lavoro che facciamo e apprezzano il messaggio che stiamo dando assolutamente e questi macchinari è anche interessante capire sono estremamente sofisticati quindi non è da pensare il classico spazzolone ci dia due informazioni tecniche allora questi macchinari sono dotati di queste spazzole che hanno ovviamente delle pompe di aspirazione quindi il rifiuto e anche le polveri vengono aspirate previa umidificazione proprio per evitare il sollevamento delle polveri ma questi macchinari hanno anche all'interno li abbiamo inseriti da circa un paio d'anni hanno anche dei satellitari con cui noi possiamo vedere l'effettivo svolgersi del servizio ovviamente non immediatamente ma un paio di giorni dopo e quindi capire dove effettivamente bisogna intervenire per le azioni successive magari in quella stessa via quindi monitorare in pratica monitorare il servizio e vedere anche e soprattutto poi all'interno di quella via il perché alcuni tratti di via non siamo riusciti ad essere efficaci oppure semplicemente non siamo riusciti proprio a passare fisicamente con la macchina ecco, è importante anche la segnalazione dei cittadini l'abbiamo accennato prima perché è impossibile essere presenti dovunque vedere tutto e capire sono a volte chi risiede in un territorio i cittadini stessi che si possono rendere conto se una situazione va bene oppure anche in base alla frequentazione poi di un'area oppure non tutto procede con dei protocolli ben precisi con delle allora su questo ovviamente noi siamo al passo di cui tempi e vogliamo anche essere oltre abbiamo introdotto ad esempio sul comune di Padova e questo andrà anche a beneficio del comune di Sacco Longo un call center gratuito che è aperto diverse ore la settimana e anche il sabato e che può essere anche gratuito dai telefonini ma abbiamo anche soprattutto introdotto un'applicazione che si chiama Il Rifiutologo Il Rifiutologo Il Rifiutologo che è un vero e proprio assistente virtuale per la raccolta differenziata e che copre quindi non solo i bisogni della semplice raccolta noi gestiamo i porta a porta nella città di Padova nei comuni anche di Ponte Sinicolò Saunara in 90 Padovana e dal primo febbraio di Sacco Longo e quindi aiuta i cittadini a capire dove va cosa quindi un vero e proprio dizionario che è interattivo per cui se c'è un rifiuto nuovo perché ovviamente i beni cambiano quindi anche i rifiuti di conseguenza possono cambiare il cittadino digita semplicemente il nome e quindi gli viene detto esattamente a seconda della zona servita dove da essere conferito quel rifiuto ma abbiamo anche ritorno alla sua domanda sulla segnalazione abbiamo la possibilità di fare in modo che il cittadino scatti semplicemente una foto quindi rappresenti il meglio di una foto non ve ne è non si può rappresenti la situazione reale l'abbandono di rifiuti il cestino troppo pieno la strada sporca attraverso il collegamento GPS del proprio telefonino arriva direttamente l'assignazione al nostro esercizio i nostri tecnici la prendono e incaricano e la lavorano e quindi la mettono in esecuzione per risolvere il problema questo è uno strumento che sta avendo molto successo vediamo che le persone sono sempre più quelle che si iscrivono che si registrano che lo scarichano e che poi lo utilizzano ecco il fatto che ci sono ancora purtroppo persone estremamente incivili che lasciano dei sacchi di rifiuti tra l'altro proprio oggi in tangenziale osservavo due sacchi di rifiuti ai margini della carreggiata che è una cosa vergognosa qualcuno che se ne ha liberato però poi se questo sacco si apre penso che poi il lavoro sia micidiale enorme però succedono e anche in alcuni comuni dove magari succedono è un problema che anche se è marginale ha un certo impatto c'è una sanzione anche volevo chiedere esatto infatti noi con l'amministrazione con le amministrazioni comunali abbiamo del nostro personale i cosiddetti accertatori che possono rilevare in maniera documentale eventuali frazioni che poi comunichiamo alla polizia locale per eventualmente errorare la sanzione ci sono delle sanzioni sono anche severe perché andiamo da 50 euro anche a 500 euro a seconda a seconda del tipo di infrazione che può essere il conferimento di rifiuti da fuori comune è uno dei problemi che esistono per cui il cosiddetto nomadismo dei rifiuti come il semplice abbandono di sacchi o rifiuti direttamente sul suolo pubblico ovviamente questi sono disciplinati da una normativa che è solitamente il regolamento di gestione di rifiuti urbani che ogni comune ha all'interno vi è una vera e propria scaletta con tutte le sanzioni che sono applicabili a seconda della fattispecie ecco i rifiuti più ingombranti non so la brandina queste cose qua dove vanno conferiti? allora sui rifiuti ingombranti vi sono due modalità abbiamo sia la raccolta a domicilio gratuita gratuita quindi vuol dire che uno chiama il servizio uno chiama il servizio e vi sono come ne dicevo due casi o la persona in buona salute come ci si augura quindi espone i rifiuti davanti al proprio civico concordando il giorno con il nostro numero verde oppure se è una persona anziana o disabile andiamo anche al piano a prendere il rifiuto ovviamente abbiamo dei limiti non possiamo fare uno sgombero di un'intera casa ma abbiamo tre colli alla volta come numero massimo di conferimento e l'altra alternativa sono i centri di raccolta noi a Padua ne abbiamo quattro e che sono aperti anche la domenica e che possono essere un'ottima valore di sfogo per quanto riguarda i cittadini per il conferimento di materiali ingombranti oppure quei rifiuti insoliti particolari che mettono sempre le persone in imbarazzo perché non si sa dove conferirli non si sa dove conferirli classico non so il videoregistratore vecchio il decoder dove finisce? ecco il videoregistratore è una classica pericatura elettronica i cosiddetti RAE e questa può finire tranquillamente nel centro di raccolta o anche attraverso il servizio a domicilio che le dicevo non nell'indistinto non nell'indistinto assolutamente si tenga presente che ad esempio e tanti non lo sanno ma uno che acquista una piccola pericatura elettronica o comunque alimentata io la faccio in maniera generica con energia elettrica al lato dell'acquisto può consegnare può consegnare il rifiuto usato questo una volta era uno contro uno quindi si comprava l'oggetto nuovo si dava adesso è addirittura uno contro zero quindi io potrei consegnare questi rifiuti direttamente anche ai rivenditori che hanno l'obbligo di riceverlo anche questi grandi centri anche i grandi centri commerciali questo vale anche per le batterie ad esempio però sono tutte informazioni che pochissimi sanno se non magari gli addetti ai settori o chi ha una certa sensibilità per la gestione dei rifiuti però sono cose che dobbiamo comunicare in maniera più massiccia perché effettivamente possono eliminare una gran parte della gestione dei rifiuti perché poi alla fine questi rifiuti hanno un costo sia per il servizio che viene erogato e anche per il successivo smaltimento o in parte recupero assolutamente questo è molto molto importante allora arriviamo a lei signor sindaco cosa succede ci racconti un attimo del comune provincia di Padova Saccolongo un comune di quanti abitanti allora ho l'onore di essere appunto il sindaco di un comune del Padovano Saccolongo è un comune di poco meno 5.000 abitanti sono circa 2.500 famiglie è un comune stupendo sul quale volevamo appunto migliorare la qualità del servizio dell'asporto rifiuti e diminuire quindi migliorare la quantità quindi anche la quantità perché è importante ci sono due sfaccettature sia migliorare la qualità del servizio ma bisogna anche fare una migliore differenziata quindi puntare anche ad aumentare quella percentuale della differenziata che noi attualmente ci attestiamo mi pare intorno nel 64% esatto e c'è tutto lo spazio per migliorare e farla più puntuale e appunto avete interpellato i cittadini per capire dove stava il problema di una percentuale sì allora noi infatti attraverso appunto con questo nuovo partner che si è giudicato la nostra gara vogliamo iniziare un percorso di sensibilizzazione con i cittadini proprio per migliorare questo servizio infatti sono molto contenta anche perché abbiamo trovato un interlocutore con il quale è possibile per esempio andare a individuare delle isole ecologiche che attualmente non ci sono perché abbiamo alcuni condomini nati in anni passati dove non c'era questa sensibilità su questo tema e invece è importante individuare proprio queste isole per anche un decoro del territorio sul quale stiamo lavorando e ci stiamo confrontando con alcuni amministratori proprio per creare queste isole che sono necessarie assolutamente fondamentali ecco vediamo adesso di parlare anche del passaggio come è avvenuto che cosa c'è stato eccetera pubblicità pochi secondi poi siamo di nuovo con voi